Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Last Team Standing Oggi siamo veramente in tantissimi e non so neanche se riuscirò a finirlo Perché il titolo è tipo 1,5% possibile, questo Last Team Standing Ma soprattutto perché siamo in tantissimi Guardate la gente che si suicida E quindi abbiamo già impiegato parecchio tempo per entrare solamente qua in partita Ed è un casino Allora, vediamo subito se da qua se può le saltare Ragazzi, dovete levarvi dalle scatole 3, 2, 1, si salvi chi può Uh, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta, grandissimo, ti blocco io Grandissimo, ti ho bloccato Forse era male se ti lasciamo andare No Che cavolo è successo? Vincitore! Non ho fatto nulla ragazzi, così si fa a vincere Questa volta per il secondo round siamo spawnati dall'altra parte Interessante ragazzi, molto molto interessante Allora, qui la tattica è aspettare che l'altra squadra si suicidi Wow, cosa stanno facendo? Stanno tutti citando come abbiamo citato noi? Non lo so ma qua è veramente difficile perché Dobbiamo passare su questo cavolo Ragazzi, no tutti assieme, che cavolo Dai, andate avanti una alla volta Dai, avanti Io ragazzi vi butto giù Cioè io ste cose mi fanno Madonna mia raga Senza paura Ce l'ho fatta! Sono il più forte, andiamo così Scendiamo giù, tranquilli beati E senza avere troppa fretta Se no si cade giù in malo modo Qui vediamo di andare poi da questo Ditemi se vi piace questo Last team standing Arriviamo a 15.000 like E ve ne porterò molti altri Scendi giù, perfetto da bravo E... Qui la faccenda diventa un po' Ah no! Sì, adesso diventa un po' complicata Perché devo riscappare dalla pala Qui eolica Ok Ok, una, due, tre Vai! Sì! Ce l'ho fatta ancora raga! Ce l'ho fatta ancora! Allora, qui bisogna... No! Fermati! Che cavolo! Salta su? Oh là, da bravo Vai! Salta su? Perfetto No! Attimi di terrore! Il mio personaggio ragazzi si vuole suicidare Non vuole fare Questo last team standing Perfetto Guardate qua, proprio popo fiero Sono qui Attaccato Anzi, fatemi vedere una bella ripresa Dove cavolo sono? Da questa, guardate che roba Che figata! Allora, bando a ste cavolate Qui mi ric... Oh, corri, corri, corri! Che lì c'è anche uno dei rossi Questo era tutto elettrico Perfetto Perché mi ricordo che avevo fatto anche una gara, altre cose Cioè, mi ricordo ragazzi L'ho fatta la settimana scorsa Mi pare Sia da solo che con gli guagna No! Cammina normalmente Proprio fieri Oh, bisogna camminare così Allora non si becca la scossa Allora Arrivati da questa bisogna scendere E scendere ancora Scendere ancora di qua Ragazzi C'è veramente Questa cosa qui Dai che laggiù ci sono le armi Dai, corri! Voglio andare con calma Spero che quello lì Non si voglia uccidere Avanti No, levati Levati Bravo No! Ma dai Non sai neanche camminare Salta Oh Raga, si è bloccato? No, dai, eh Mi son bloccato? Ah, eccomi Uh Avanti così Che Chiaramente Io e il mio compagno di squadra Dovremmo In qualche maniera Riuscirci Ma dai Ci ha suicidato Maledetto bastardo Erano lì le armi Che due scatole ragazzi Per Cioè Vincere Così a tavolino E siamo due a zero Ed eccoci qui Giunti All'ultimo round Qua devo sempre Avere i miei compagni di squadra Con la benzina Ehm Provo anche io ragazzi A rifare questa cosa qui A saltare E vedere Che Che non mi uccido in pratica Che non mi uccido in pratica Le armi Erano Là ragazzi Guardatele qui Laggiù RPG E cecchini RPG e cecchini Quindi qua Con queste cose qui Amigos No amigas O amigas Amigas O l'amiga Per chi si ricorda I vecchi giochi Qua esplodeva Il mondo Allora Boh Io mi tuffo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ferma Ti ho bloccato io eh Ti avere bloccato Andiamo I miei valorosi prodi Allora Qui c'è Un salto da fare No Così cadi di sotto Te l'avevo detto io Perfetto Però No Così muoio Invece no Ce l'ho fatta Vai avanti Avanti Amigos Slender Seguimi Che adesso qui La faccenda Si fa Interessante Salta No Che cavolo Vai salta Amico Slender Occhio Non ci credo Non ci voglio credere Perché io mi sono messo a correre Sei tutti noi Capelli blu Anche lui ragazzi È del mio team E dietro c'è lo Slender Dai ragazzi che voi ce la fate Là c'è uno della squadra avversaria Vedo Tu vai con cal Perché questa volta si salta C'è dritto Prima l'avevo saltati questi cubetti C'è qui Ah dall'altra Difatti Ragazzi non correte come dei matti Non correte come dei matti Che siete quasi vicini Vediamo qui su Weasel News No dov'è cavolo è qui Eccoci qua Weasel News Last team standing Attenzione Gli ultimi Membro della crew di Beastard Contro I gnoti Eccolo qui Con l'RPG Vai vai spara 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 Vai ammazza quello Che quello lì ti prende a pugni Quello ti prende a pugni In Slender Non fare Ma Non è morto Non sto capendo nulla ragazzi Ah adesso è morto quello Perfetto Allora basta Tris di vittorie No Quanti cavolo ce n'è Ce n'era Ancora uno Basta Obliterato Distrutto Quindi Tris di vittorie Vi ho fatto vedere spero anche Queste esplosioni finali Veramente assurde Qua è crashato tutto Spero che questo Last team standing Vi sia piaciuto Se fosse così Arriviamo a 15.000 like Commentate Condividete in descrizione Trovate Instagram Facebook Seguitemi su Instagram Perché posto foto inedite Qua da Beastard Con questa vittoria È tutto E anche da Roslenderman E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video